Buongiorno, mi chiamo Dengue Yu. La mia prima aria è Hai già vinta la causa? Dalle nozze di Figaro di Mozart. Questo video è stato registrato nel 2023. Hai già vinta la causa? Cosa c'è? In quella gioio cappella E tu, figlio, io voglio di tal modo punirmi A placermi o la serpenza sala Ma se pagasse la mente prete pente Pagarla in qual maniera E poi va Antonio che ha incognito E poi va a fare la sua Cosa c'è? Unorsi Radio Ed è importante E poi va a fare la tua E poi va a fare l'amore E poi va a fare l'amore E poi va a fare la tua E poi va a fare la tua E poi va a fare la tua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.